L'evento è stato organizzato da Controcultura, associazione di Erchie, che spazia dal canto alla recitazione, sentiamo le parole del Presidente, Antonella Ciccarese. Buonasera a tutti, sono lieta di presentare il nostro primo evento come associazione di promozione sociale, associazione Controcultura, 1 giugno, prima edizione di Opening Summer Fest, il primo evento erchiolano dell'estate e spero che si possano divertire in tanti. Grazie per la visione!